Impastiamo lo strazzapretti, vai! Sto i strazzapretti che adesso andiamo a fare con funghi trifolati che abbiamo già fatto la salsa. Questi comunque sono funghi trifolati già trifonati da noi, una ricetta che abbiamo fatto noi, poi in realtà è una confezione di busta di Orogel. Questi sono funghi, la peculiarità che non esistono dalle altre parti, sono tutti funghi europei, non ci sono funghi cinesi, non c'è né massache né shittache, quelli che ci sono sono funghi prodotti in Europa. Un goccio di acqua di cottura che è ricca di amido e la pasta con il burro fa sì che questi creino una cremina. continuando a lavorarla così, vedete?